Buongiorno a tutti da Fabrizio, bentornati come al solito qui sul canale. Faccio questo video perché in questo periodo di confusione generale dovuta alla situazione che stiamo tutti vivendo praticamente in giro per il mondo è molto facile leggere articoli o vedere video con le teorie più fantasiose che possiamo definire se vogliamo complottiste che sono anche in alcuni casi molto interessanti ma qui sul canale io voglio restare focalizzato sui discorsi relativi al mondo della tecnologia che comunque è un mondo che conosco. In questo video in particolare vorrei parlarvi di una notizia uscita in questi giorni relativa al fatto che il sistema italiano sarebbe in grado di sapere attraverso l'intelligenza artificiale questi magheggi se voi state rispettando la quarantena o no e quindi il punto è che appunto i governi vi spiano, ci spiano sanno in qualsiasi momento dove siamo eccetera eccetera. In realtà le cose sono molto più semplici di quello che possiamo immaginarci e di quello che a volte chi fa questi articoli oppure questi video cerca di enfatizzare perché ovviamente creano curiosità, creano interesse e creano views piuttosto che letture degli articoli stessi. E ci tengo a portare questo contenuto qui sul canale perché stiamo parlando di alfabetizzazione informatica alfabetizzazione tecnologica e ricordiamoci ragazzi la conoscenza, quello che gira nel nostro cervello è veramente la nostra più grande forza, la nostra più grande arma tra virgolette. Quindi andiamo a vedere un pochettino più nel dettaglio questa notizia. Due ragazzi di un'azienda che si chiama Logograb e mi sembra giusto pronunciare il loro nome perché secondo me hanno fatto uno studio veramente interessante. sono andati ad analizzare circa 550.000 contenuti Instagram e se non erro si sono focalizzati sulle storie più che sulle immagini perché le storie Instagram sono contenuti che sono di solito più in tempo reale. I contenuti Instagram volendo possono essere georeferenziati che cosa vuol dire? Che quando postiamo un'immagine possiamo decidere se vogliamo che all'interno dell'immagine ci sia scritto dove e quando quest'immagine è stata scattata. Così facendo è quindi abbastanza semplice capire se una persona o meglio un account Instagram sta diciamo rispettando o meno la quarantena. Però ci sono alcuni punti che è fondamentale sottolineare. Tutte le immagini che sono state analizzate in questo studio sono immagini pubbliche di account pubblici. Cosa vuol dire? Che le persone titolari di questi account hanno deciso di lasciare aperte a tutto il mondo le proprie immagini, le proprie informazioni. E questa era la prima cosa. La seconda è che questo studio non è stato fatto da nessun governo, ente strano, sovranazionale ma bensì da due persone, diciamo due privati qualunque. E così come l'hanno fatto loro avrebbe potuto farlo qualsiasi altra persona con una buona conoscenza informatica di programmazione. Il terzo punto che possiamo evidenziare è che se sei in quarantena già non te ne dovresti andare in giro ma in più se vai in giro e ti fai le storie Instagram per di più pubbliche vabbè, raga, di cosa stiamo parlando? Qui il problema non è che gli strumenti ci spiano e i software, le grandi aziende americane qua e là, i governi, sanno tutto di noi. Qui è questione che non sappiamo utilizzare nella maniera più banale gli strumenti più semplici. Perché se non siamo in grado di accorgerci che se pubblichiamo una cosa pubblica dove c'è scritto dove siamo e poi in giro per il mondo lo possono sapere e queste informazioni possono essere utilizzate raga, direi che è forse arrivato il momento di prendersi dieci secondi di riflessione prima di fare qualsiasi cosa perché qui siamo veramente a livello di eh, ma se i tuoi amici si buttano giù da un pozzo ti butti dietro anche tu. Ed è vero che le aziende titolari di questi grossi social network fanno di tutto per tracciare il comportamento degli utenti perché a loro serve per vendere la pubblicità. e mi ripeto ancora ne continueremo a parlare su questo canale perché ho già in mente almeno un altro video a riguardo ma in questo caso dobbiamo veramente renderci conto che non stiamo parlando di chissà quale complotto tramato alle nostre spalle ma veramente di una mancanza di conoscenza di base degli strumenti che ormai utilizziamo costantemente tutto il giorno tutti i giorni. Inoltre questo studio secondo me ha una fondamentale importanza che non è quella di capire se le persone stanno rispettando o meno la quarantena anche se è teoricamente l'origine che ha dato il via a questo studio ma è fatto secondo la mia opinione che ha portato a galla queste lacune di conoscenza di questi strumenti che ormai sono diventati di base aggiungo poi un ultimo punto perché tutti questi dati devono essere messi all'interno di un contesto altrimenti non si capisce mai niente allora sono stati analizzati 550.000 post teniamo in conto che Instagram nel 2019 aveva 22 circa milioni di utenti solamente nello stato italiano probabilmente adesso sono un pochettino aumentati quindi se torniamo indietro a considerare i 22 23 24 milioni di utenti italiani totali e poi ci rendiamo conto che questi post presi in considerazione sono solo 500.000 quindi una percentuale ben inferiore è già qualcosa di diverso oppure non porsi nemmeno questa domanda o tralasciare questa informazione e pensare quindi che siano stati tracciati tutti gli utenti tutti i post di Instagram di sempre vabbè in questo caso è proprio voler fare disinformazione quindi ragazzi direi che per questo video è tutto materiale per riflettere ne abbiamo io vi lascio qui sotto in descrizione l'articolo relativo allo studio il download del pdf così potete approfondire andare a cercare direttamente alla fonte verificare i numeri verificate sempre tutto se volete ovviamente potete lasciare un commento così possiamo ampliare la discussione confrontarci eccetera eccetera poi magari iscrivetevi al canale lasciate un like ma ci vediamo sempre molto presto qui sul canale con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti